Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Pexelmono Come al solito stavo sistemando roba allo spawn, insomma roba per tutti i partecipanti della serie, insomma roba OP E ho messo altri oggetti in vendita, ho dato una sistemata di shop, li ho ordinati, ho fatto un sacco di cosette carine Vabbè adesso fotte cazzi non ci interessa perché non ve lo faccio vedere perché di sicuro allo spawn non ci vado O direte perché, perché ho altro da fare, ho interrotto l'ultimo episodio che vi ho chiesto quale blocco usare per casa Io ci ho pensato, ci ho ragionato, ho letto un po' i commenti e c'è una marea di valutazioni infinite Mi avete consigliato anche altri blocchi, ho visti quelli, i futuristic mi avete consigliato anche di utilizzare gli altri tipi di futuristic Mi avete consigliato un sacco di cose, anche i plate, quelli che utilizzavo nella tecnologia Mi avete consigliato tantissime cose, però non so, non so, non so quale usare Uno che sinceramente a me è sembrato simpatico è questo qua, mo ve lo faccio vedere Se mi ricordo dove ho messo il ferro, dove cacchio l'ho messo ragazzi c'è un casino di cesto L'ho messo i minerali, oh L'alluminio, ah il ferro l'ho venduto tutto? Serio? Ok ragazzi, direi che avendo venduto tutto il ferro, devo creare l'automazione di cui vi parlavo Che mi permette di... cazzo qui è brutta raga Qui se caschi fai una brutta fine, sto sempre attento quindi ogni volta che passo E devo farmi del cibo, sto sempre senza cibo, è assurdo Ah, mi servono un'altra fornace che ho e un paio di hoppers, quindi chest Allora, andiamo a craftare la mia prima hopper del mio futuristico impianto ipertecnologico del futuro Che ancora deve comunque... siamo ancora nemmeno alla fase chest L'impianto tecnologico del sto gran... cioè, avete capito come insomma è quello lì Allora, io in teoria dovrei mettere la fornace qui e premere shift con la... porca puttina Ecco qui, buono, posso... ragazzi l'envil soffre la gravità, io me lo dimentico sempre Perché non la uso mai l'envil, capito? Nel Minecraft ho dato, non c'è l'envil, ci sono mille modi per utilizzare gli oggetti Ma l'envil è proprio l'ultimo, capito? C'è per riparare, insomma, inteso, no? Allora, la fornace la metto qui Ovviamente, ragazzi, dovrò cercare di fare un sistema multifornace che non sarà semplice Però... però non mi foto un cazzo della rapidità Perché alla fine basta che la roba vada dentro lì dalla chest Va nella hopper, dalla hopper va nella... nella... nella fornace Easy Ok, adesso vado ad aggiungere tutti i materiali... tutti i materiali da cuocere all'interno della chest Perché ovviamente, ragazzi, duplicazione non ce n'è Quindi i materiali vanno così come stanno, non c'è nessun passaggio intermedio E devo fare un sistema di rifornimento automatico anche del carbone Quindi devo prendere altro ferro e fare un'altra hopper Eh sì, ragazzi, ho bisogno di un'altra bellissima hopper Madonna, ragazzi, le automazioni del vanilla Qui stiamo facendo... voi vi rendete conto? Non riesco a saltare l'esito Appazzai! Ok, senza morire Perfetto, grande, exanere Ok, dicevo, le automazioni del vanilla Allora, il carbone lo facciamo entrare dal lato, se non sbaglio Eccolo qui, ragazzi, il carbone che entra dal lato E va a inserirsi nello slot del carburante E poi andremo a fare... eh, qualcuno lì ha sloggato Andremo a fare l'ultimo passaggio che... Cesto è sotto, che è la hopper che ci finisce dentro Potrei anche metterla di lato, la chest, effettivamente, per poterla aprire Perché se io metto uno per sopra non posso aprirla, poi Interessante questa cosa, effettivamente Potrei metterla anche in avanti, invece che di lato Così è più centrale, è più figosa Tipo qua Bam, è dietro la hopper Ecco qui, ragazzi, basta aggiungere la hopper qui E tutti i miei venerari gotti finiranno... Tutto bello sistemato Ok, una mini automatizzazione vanillosa, ragazzi Questa è tutta roba vanillosa, orribile Tranquilli, c'è un modo per automatizzare in questa serie Poi lo vedremo con calma Adesso non ci fotte un cazzo perché noi siamo concentrati Sui Pokémon, quindi l'importante è i Pokémon Poi quando passeremo alla parte industrializzazione Money, cash, masterball, infinite, cattura Leggendari, go go, what the fuck you win Ne parleremo poi, non è un problema Ma solo a me o anche a voi sto Goldin ha rotto le palle? Ma se io tiro un Growlite nella faccia? Tant'è buggato che sta dietro il muro Ma mi ha fatto un cazzo, spacco il ter... Spacco il terreno, mi ha fatto un cazzo, basta che lo uccido Hai rotto le palle sto... No, ragazzi, mi ha butto di sotto Non mi uccidere Oddio, ragazzi, sto cadendo giù Oddio, se muoio rosico Oddio, se muoio per sto Goldin in merda rosico di brutto Uccidilo Morso, Morso, sfascialo Sfascialo Morso Ah, meno male, ragazzi Guarda, sono arrivato in fondo alla miniera Senza morire incredibile Morso non l'ha ucciso Boom, Goldin è esploso Growlite al 29 Ragazzi, questa settimana si arriva fino al livello 40 Effettivamente vorrevo abbassarlo un po' Il livello 40 è molto alto Perché ci volevo parecchio per arrivarci Parliamo Quindi probabilmente che dalla prossima settimana Il limite è solo 45 Se non sbaglio Cos'è? Uno Stariu Da dove è entrato uno Stariu? Ma, what the fuck Ok, rimettiamo l'ambile al suo posto Perché non mi pare Ecco qua E nel frattempo Ok, il mio La mia fornace sta cuocendo tutto Mi piace sta cosa che è tutta Ah, ci metto anche questa Allora, tiè Mamma, la faccia c'è tua Ok, automatizzato questo Possiamo direttamente passare alla fase crafting Di materiali Di ferro Ho capito com'era? Capito? Futuristico Allora, allora, allora Cosa serve a noi? Dov'è la crafting table? Eccola qui Volevo provare un paio di questi Facciamo uno stack Facilissimo ragazzi Quattro stone e quattro ferro Facciamo 32 di questi Quindi con otto stone e otto ferro Facciamo uno stack di blocchi Che è ottima come cosa Parliamone Allora, ci servono Volevo provare questi qua Perché questi mi stanno defigata Vediamo un po' Perché sono quelli che uso nella tecnologia Ce li avete presenti? Quelli che ho usato per praticamente tutta casa Quelli neri Però guardate con la texture a 128 Per quanto sono fighi Possono sembrare veramente strutturati interni Però è troppo grigliata Sbaglio sembra una griglia Effettivamente è una grata Però è troppo grata Vediamo un po' Secondo voi com'è? Come la vedete? Eh? Non è fatto male, eh? Poi un'altra opzione che abbiamo con questi blocchi Potrebbero essere Questi sono tutti i blocchi Che sto usando anche nella tecnologia Ripeto Che però ovviamente qui ce l'ho in HD No, questi sono orribili Per favore Oh mio Dio Ti prego Uccidimi 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 Vediamo questi come sono Oddio, non sono orribilissimi Ma a me sembrano colonne Quindi queste potremmo metterle tipo a smezzare Quindi non ce ne fotto un cazzo Questi neri ragazzi rimangono sempre più belli Per me non ci posso fare niente Mi piace non so Questi sono questi Che sono questi? Che figo Sono quelli del pavimento No, li ho questi per terra raga Sono le griglie antiscivolo Epiche Bellissime Fantastico Oddio Oddio che belle le griglie antiscivolo Oh mio Dio Oh mio Dio Oddio È successo qualcosa che non posso dire ragazzi Oddio sono bellissime Oddio che belle Le metto tutte le zone Faccio tipo le strisce Faccio qui La striscia tutta antiscivolo Fino alle chest No, bellissimo Basta, basta, basta GG WorldPride ragazzi Questi saranno Mamma mia che fighe Mamma mia che belli Scusate ragazzi Ma sono commentatissimo Queste strisce bellissime What the fuck E qui ragazzi La gente si riuscirà Mamma mia Duxander Però è la fantasia Di un porco spino Hai eh Effettivamente ragazzi Quando si tratta di Tipi di blocchi utilizzati La fantasia proprio Non esiste Ma non perché Non c'è Perché mi piacciono Sono fighissimo Che cosa è questo? Vedere se posso utilizzare questo Magari un po' Ma che cazzo Dici Oddio quanto è bello Oddio È un circuito Porca trota Porca paletta Porca tutto Ok raga Direi che questo È l'ideale Sembra veramente Una parete Fatta apposta Per questa chest No veramente ragazzi Questa è perfetta Basta ho deciso È andata Questa è andata Allora Io volevo lasciare Un po' di spazio Per far passare Eventuali tubi Se dovessi fare Una sorta di auto Trasferimento Insomma Nelle ceste Ma preferisco fare Stile magazzino Quindi queste chest Saranno tutte accessibili A mano Quindi fotte cazzi I tubi non servono a niente Qua Sì c'è qualche tubo In questa serie Vedete come tubi C'è un C'è qualche tubo Della project red Non è che sia Proprio la massima tecnologia È tipo una logistic Un po' merda Insomma È tipo Tipo proprio Il base del trasporto Alla fine Non riesci a fare Forse riesci a fare uno smestamento di chest Ma è molto complicato Molto molto complesso Si potrebbe fare però Quindi ho bisogno di Altro ferro Tantissimo altro ferro Per fare altri di questi Factory blocks Sì ragazzi Non mi fotto un cazzo Faccio questi Mi piace O di noi mi piacciono Sono perfetti Ci stanno tutti Tutte e due Mi piacciono e sono perfetti Basta Fine Warplay Ci posso fare niente E poi sono troppo fighi In 128 Per ragazzi Vorrei anche la textura La pixel In 128 Chissà come sarebbe Che figata Al soffitto O noi ci pensiamo Queste intanto Sono le pareti Il soffitto non può essere uguale Alla parete Parliamo Cioè facciamo Facciamo un discorso serio Su questo Perché Dio non esiste proprio Oh dammi i blocchi L'auto replace Dove sta? Sì sì raga È bellissimo Bellissimo Basta Eh sì raga Il soffitto lo faccio A queste grade Questo sembra veramente Un soffitto Perfetto Mi piace Mi piace È andata È andata È andata Donna ragazzi Che fighi I blocchi in HD Effettivamente sto notando Un calo di FPS Però ho dato molta più RAM A Minecraft Non ve l'ho detto Mi sono arrivata delle RAM nuove Eh sì Io ho dato un casino di RAM Mi sto dando 8 giga al momento 8 giga E va veramente Veramente da paura Non c'ho nulla da dire Veramente GG well played Lo sapete che le texture Consumano RAM E non un po' Un macello Le texture in HD Hanno serissimi problemi di RAM Un macello di RAM Consumano un casino di risorse E Voilà Mi piace Manca un blocco però Che cazzo Xana Aspetta Aspetta Ce l'ho Ce l'ho Eccoli Li rubo da qua dietro Mamma mia Che tirchio Pur di non craftarne altri Che potrebbero servire No invece io li rubo da dietro Gli angoli Che tanto non si vedono Stanno nell'angolo Ok mi serve Altri blocchi di grada Dove erano Ecco qua Oh Metti in mano E Voilà Aspetta Qui devo cambiare Aspetta Aspetta Eh Potrò essere quei blocchi dritti Quelli che abbiamo visto prima Dove stanno Questi qua O questi qua Questi qua sono più fighi però Vediamo un po' come viene Sì Ci faccio le scale con questi Bam Fino su in cima Dalla cima Al fondo Tutto pieno di questi blocchi Pure le pare Sì sì È andato Deciso Sì sì Mi serve un altro craft Altro craft Mi serve Altro ferro Che figo ragazzi Casa prende forma Non ci credo Guardate che figo Ok mi serve tantissimo ferro Devo unirlo insieme Con questi dove stavano Eccolo qui Sbam Sbamf Sbamf Milla mia stack Di blocchi futuro tecnologici In 128 per HD Super fighi E li trasformo tutti in questi Perché come ho detto Ci faccio adesso Le pareti delle scale Guardate ragazzi Devo arrivare fino a qui E da qui devo cominciare Vabbè no Magari non da qui Tipo da qui Per fare una prova Cominciamo da qui E devo salire fino in cima Devo fare tutto così Fino a su Su Tutte e quattro le pareti In modo che le scale Vengano tutto uguali A 6 metri Mi piace sta cosa L'unico problema sarà Portare sulla ferrovia Là mi dovrò inventare qualcosa Già ve l'avevo detto Ricordate che non sapevo Come tirarla su E mo ci penseremo Non ve preoccupate Eh che ne dite Le faccio tutte così le scale Da tutti i lati Bello ma gusto ma gusto Sì sto notando Leggermente un calo Comunque di prestazioni Le texture in HD Pesano 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 Ma fotte cazzi Bellissimo Più che altro pesano visivamente Capito Perché alla fine sul gioco Non stanno pesando Guarda che bello Che sto avvenendo Questa caccia Bella mia E adesso devo togliere Questi orribili Ah Gravel nella faccia Ah Altra gravel Questa cazzo è Oddio ragazzi Io odio la gravel Mi infetta C'ho paura di essere infettato Capito Eccolo il discorso Ok Riempiamo tutto fino a su Tiè Ma dai Che c'avete dare di Dai per favore Adesso mettiamo le scale Effettivamente potrei mettere Delle scale un po' più carine Eh Potrei effettivamente Utilizzare il legno che ho E fare le scale della carpenter Che sono leggermente più carucce Infatti Mo le faccio subito Perché prima le avevo un tasso a stone Che non mi serve Per fare sta cosa ragazzi Per spostare tutto lo stesso oggetto È Control più shift Shift e click Ovviamente Avendo La inventory tweak installata Mi serve la carpenter Perché ci sono le scalette Guarda che belle I blocchi What? Dicevo io non botto Vai BAMF Crafting Quanti riesco a farne Di blocchi Più possibile Eh Pfff A voglia te Pfff Sì ciao Ok scalette Ce ne servono Eh Ne vengono poche invece Uno stack è poco Sapete Uno stack è 24 È veramente poco Vabbè Togliamo le scalette E mettiamo queste nuove Bello 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 Mi piace mi piace Mi piace mi piace Ok raga I blocchi per casa li ho decisi I blocchi per le scale li ho decisi Sta avvenendo tutto bellissimo E quindi penso che Anche per questo video Purtroppo è tutto ragazzi Mi spiace che ho potuto fare solo costruzioni Ma prima o poi dovevo farlo Quindi non si scappa Ok Quindi adesso che ho sistemato Anche le scalette Viene tutto più figo Guarda che bello che è Io non c'ho nulla 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 Bellissimo Bellissimo Ragazzi io me lo finisco off camera Perlomeno una buona parte Perché ovviamente non posso fare tutto off camera Non esiste proprio Non so Non esiste proprio Che io mi metta a fare tutto off camera Non ve lo aspettate proprio Non col cazzo Quindi Penso che video è tutto Io vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Dove andremo sicuramente A expare un po' i pokemon Perché sicuramente Mi saranno rotto le palle di costruire Però Dettagli Sapete che io e le costruzioni Sì andiamo d'accordo A livello di dimensioni Ma poi dopo un po' Mi rompo le palle Quindi Pokemon Io vi saluto Vi invito a lasciare un mi piace Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti